Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Hi everyone and welcome back to my channel! Siete pronti per una nuova lezione di italiano? Are you ready for a new Italian lesson? Oggi parliamo di grammatica... ancora grammatica, lo so. Molti di voi mi hanno chiesto di fare un video sul congiuntivo, quindi oggi facciamo degli esempi di frasi con il congiuntivo e utilizziamo tutti i tempi verbali del modo congiuntivo. Quindi il congiuntivo presente, il congiuntivo imperfetto, il congiuntivo passato e il congiuntivo trapassato. Come potete capire questa è una lezione un po' avanzata per, diciamo, chi di voi ha una conoscenza dell'italiano un po' più elevata. Io ho già fatto altri video in cui vi spiego l'uso del congiuntivo in italiano e quindi ve li linko sia qui sul video che nell'info box. Inoltre c'è anche Tom, TomTXXYTU, che ha fatto dei video molto interessanti su come formare il congiuntivo presente e il congiuntivo imperfetto. Quindi ve li linko sotto nell'info box, così potete andare a vederli. Allora, iniziamo con i nostri esempi. Vi faccio vedere come coniugo la stessa frase, però cambiando il tempo del congiuntivo. E per ogni frase in italiano scriverò anche la traduzione in inglese. Vediamo il primo esempio. Allora, me li sono scritti sul quadernino. Congiuntivo presente. Penso che Luca studi all'università. Io adesso, in questo momento, penso che, credo che Luca studi all'università. Quindi sono tutte e due azioni presenti. In inglese è I think Luca studi all'università. Quindi con il simple present. Andiamo avanti. La stessa frase con il congiuntivo imperfetto. Quindi tutta la frase si sposta al passato usando l'imperfetto. pensavo che Luca studiasse all'università. Quindi, per esempio, ieri o un mese fa pensavo che Luca studiasse all'università. Com'è questa frase in inglese? Com'è questa frase in inglese? I thought Luca studi all'università. Quindi simple past. Ok? Fino a qua ci siamo? Andiamo avanti. Quindi congiuntivo passato. Penso, quindi adesso, penso che Luca abbia studiato all'università. Quindi ora penso che Luca in passato abbia studiato all'università. In inglese la frase è I think Luca has studied at university. Quindi il present perfect. Andiamo avanti con il congiuntivo trapassato. Qui tutto al passato. Quindi pensavo che Luca avesse studiato all'università. Tutto al passato. Ieri pensavo che Luca in passato avesse studiato all'università. In inglese questa frase è I thought Luca had studied at university. Allora, facciamo un altro esempio. Un'altra frase. Penso che loro siano amici. Tutto al presente. Io penso che loro siano amici. In inglese la frase è I think they are friends. Congiuntivo imperfetto. Quindi tutto al passato. Pensavo che loro fossero amici. Quindi in inglese la frase è I thought they were friends. pensavo che loro in passato fossero stati amici. in inglese la frase è I thought they had been friends. In the past. Sempre. Non voglio caricarvi troppo di informazioni, quindi mi fermo qui per oggi. Però se volete nell'info box vi lascio un esercizio da fare. Vi scrivo due frasi con il congiuntivo presente che voi dovete trasformare negli altri tempi del congiuntivo, come ho fatto io in questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao ciao!